Ciao a tutti, qui è Lassi e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball FighterZ Oggi ci troviamo ad affrontare noi gli eventi PvP Perché ho provato a registrare gli eventi PvP ma c'è Keylag E poi c'è gente che c'è, va proprio a scatti il gioco Come del primo periodo, non registrare le classificate Ma questo evento che ho scoperto che c'è su Fighter Ovvero le boss battle Ossia, ci riuniamo tre di noi, credo, perché questa è la prima volta che lo faccio E dobbiamo battere questo boss che ha un tot di vita E dobbiamo batterlo tutti insieme Quindi io, cioè, finirò di trovare altri che ce l'ha trovato, ok E andiamo Entra, entra dove? Sì, ok Ah, a posto Quindi credo che la... ok, a posto Ah, siamo tre di noi Ah, capito Perché ho Black Goku? Boh Ah, quindi ok Se uno switch, va bene Capito, capito È una nuova modalità Non so perché Cioè Non l'ho mai vista portare su Gdub Quindi ho detto Va bene, dai, proviamo Io farei infame Skipperei Mi farei qualcuno a skippare Amico sono io Ah, infatti Devo aspettare che lui switch Ah Ha 12 HP, ma è uno skiffo È scasso fortissimo Un botto scasso Fatemi entrare Tipo la Kid Bu Ma è una capolata Se vi ce ne ha sconvincere Con questo Kid Bu Ah Ok Perciò nessuno l'ha mai portato su youtube Perché fa schifo proprio Cioè vuoi giocare solo il primo Ma è una cavolata Cioè vai vuoi giocare il secondo Però devi switchare ma è proprio una cavolata sta cosa Ah ma si potenzia Allora Va bene Ok Ok adesso che si potenzia Mangiamo un po' meglio Ah e poi si cambia ogni po' Ok ok va bene va bene Mi piace sta cosa Quindi il prossimo round dovrei andare io Spero Spero Posso entrare Non posso fare niente Fatemi giocare Mi richiamo come aiutante ma non mi fa entrare È la madonna Ok Oh sono io Oh però non vale mi accolto di sorpresa Non vale non vale mi accolto di sorpresa Fuori Vabbè dai mi accolto di sorpresa Pensavo mi sia chiamato soltanto come aiuto Come special Va bene Quindi adesso dovremmo fare un'altra sfida Credo Ah ma la vita rimane tolta Dai ma che inculata è mai questa Dai Nooo Dai perché mi avete lasciato E vabbè hanno quittato tutti E vabbè allora Era giusto per farvi vedere questo video Ma credo che registro del battaglio libero Almeno credo Perché le classificate ve l'ho detto È impossibile giocarsi Quindi faccio un taglio E ne unirò a questo video Ok Ho trovato una partita libera Però ho trovato Sto tizio Che ha 100 vittorie Ha fatto 101 partite Questo ne ha perso solo uno Quindi è una bestia sto tizio Come un belcato contro Cioè io anche se perdo pela carico Perché questo sarà un animale Cioè questo mi aprirà in due Poi specialmente che non mi ricordo manco i tasti Tra poco Nooo Che è sta Eh vabbè Ma mi metto sotto come Mi va bene Beh cheat Ma è un animale Io l'ho detto Nooo Oh bella Ma no che lag Oh bella Vai Uh Grande Non so come l'ho battuto uno Ma ci sono riuscito Nooo Sbagliato Devo parare Non metto questo sotto combo Cazzo Nooo Mi ha fatto come con triangolo Ma tu madre Eh vabbè Ma è fortissimo questo No Ma come l'ho preso da per te Vabbè Ho capito Usa i città Eh vabbè Ma è fortissimo sto tizio Come io l'ho battuto Ad entrare nei 21 Boh Sono manco io Eh vabbè Mi ha messo sotto combo Eh vabbè Ma è fortissimo sto tizio Eh Ha pure 100 vittorie Cazzo Eh Mi ha messo io con la combo ricca No No Come l'hai preso Dai Ma vai a quel paese Eh vabbè No è impossibile No Quando ti tra un tizio contro Come questo Come fai Ma per favore Eh Prova il tutto per tutto A sto punto Eh vabbè Vabbè Regione tu No 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 Non si è parato No Non si è parato Non puoi Non puoi Non puoi Già è una cosa impossibile Qua Poi non si è parato Tegra sposte No Non l'ha preso Eh vabbè Eh No è impossibile Io voglio la rivincito però Mi interessa Dammi la rivincito Infami di merda Che giochi dalla mattina Alla sera Dammi la rivincita Dammi la rivincita Dammi la rivincita Dai Ma dai Che mi devi fare Aspetta Beh Ah buongiorno Non ho capito Che sei forte Muori però E vabbè Non mi ha fatto La dame a mia Rosè Della mamma No Vabbè Dai vabbè Come si fa Quella cosa in alto Là Vorrei saperlo Grazie Mi hai aperto il culo Dai Come fa Quella cosa Che li rendi fortissimi Perché puoi metterlo Sotto combo Eh vabbè No 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 Eh vabbè Io ci rinuncio Ci rinuncio Ci rinuncio Come si fa Dai Ma certo Poi uno ci rinuncia Mi faccio Mi faccio le cose Tutte tatti Vabbè 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 No Non ho fatto La ulti Sei infame Gogro No Se però Avete visto Che stava parato Dai Ma che è Stamato Non l'ho preso Preso Ci Numeri No Freezer Sei pezzotto Proprio Vabbè Questo vale Come impedire Guarda Quando è fo Ma come Caspita Fa Tutte ste combo Ma giochi dal mattinale Sei va meno Vabbè No Io me la faccio vedere Perché mi interessa Proprio Faccio vedere La gente Come non ha una vita Proprio Eh vabbè Vabbè Ok Posso giocare Grazie Posso giocare No Ma ha detto di no Quando ha detto di no 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 Non posso giocare A detto No Io non ti faccio giocare Ti faccio passare La paglia di giocare Fighter Ma è certo Trovi gente del genere Cazzo Guarda L'amadon Basta Io finisco di registrare Per oggi Perché non posso Di incontrare Sta gente Veramente Impossibile Dai ma come fai Con di sta gente Inclassificata Poi uno vuole arrivare 530.000 punti di battaglia Ma come fa Che sta sta gente Madò Vabbè Io Stacco il video Basta Veramente Fighter Non Cioè Mi passa proprio la voglia Quando incontro sta gente Di registrare Madò Cioè sta gente Fa ste combo Cioè loro sono nati Con ste combo Nella testa Proprio Io che non ci gioco Da mesi oramai Appena ho ripreso la mano Sta sta gente Certo ti passa la voglia Di giocarci Perché se non Stai proprio Affissato col gioco Purtroppo Non puoi andare avanti Vabbè Io Mi saluto Mi raccomando Andate a vedere Anche i precedenti video E spero che a voi Il video vi sia Basta Che cosa Basta Ok E quindi ci vediamo Ad un prossimo video